buongiorno eccoci al nostro secondo appuntamento con la rubrica i tesori del museo ebraico di roma e andiamo oggi nella sala 3 del museo la sala feste dell'anno feste della vita la sala dedicata appunto agli avvenimenti che scandiscono il tempo dell'ebraismo la preghiera il sabato le feste annuali e le varie tappe della vita vorrei mostrarvi in particolare un documento appartenente solo alla tradizione ebraica legato al rito del matrimonio questo documento si chiama che tu va o contratto matrimoniale per l'ebraismo infatti il matrimonio non è un sacramento bensì è un patto tra i due sposi ratificato appunto da un contratto di natura legale stipulato davanti ad un notaio ed ha il valore di garantire diritti delle mogli in caso di morte del coniuge o di divorzio e proprio il marito infatti a prendersi carico della sua realizzazione affidando ad un esperto soffert lo scriba il compito di redigerlo e decorarlo per l'importanza rivestita da questo contratto è sempre stato scelto un materiale pregiato e duraturo come la pergamena e il testo scritto con inchiostro di china viene inserito all'interno di una cornice riccamente decorata a tempera o all'acquerello con raffigurazioni che vogliono esaltare la felicità matrimoniale e le virtù muliebri la chetubà che voglio qui mostrarvi è particolarmente elegante e colta nelle sue citazioni iconografiche bibliche si tratta del contratto di matrimonio tra shemuel yehuda di castro e debora di segni entrambi figli di rinomati rabbini romani matrimonio ha celebrato il 2 di sivan 5545 secondo il calendario ebraico e cioè l'11 maggio 1785 come possiamo vedere all'interno delle due cornici laterali al testo si snoda una rara decorazione geometrica formata da 18 rombi realizzati con micrografie in caratteri ebraici contenenti al loro interno alternati mio soti 6 stelle a 6 punte e negli snodi tra un rumbo e l'altro in simmetria altre 18 coppie di piccoli tulipani rossi screziati nella parte superiore al centro e lo stemma della famiglia di castro entro cornice sagomata e coronata sorretta da un nastro svolazzante rosa ai lati sono due figure allegoriche intese ad esaltare le virtù muliebri a destra la sapienza a sinistra la prudenza entrambe identificate dal titolo in italiano la loro iconografia ispirata chiaramente dalle immagini contenute nell'iconologia di cesare ripa come possiamo vedere con il confronto con le incisioni di queste due virtù contenute nell'edizione perugina del 1766 la parte terminale della pergamena nel basso è decorata da una scena chiaramente alludente alla coppia nuziale la cui fonte iconografica è però sconosciuta frutto forse della fantasia dell'anonimo decoratore all'interno di una nuvola sospesa sopra un lembo di terra da cui spuntano spighe di grano a sinistra è un uomo seminudo addormentato a destra è la donna nuda e vigile potrebbe trattarsi della scena biblica della nascita di eva da adamo addormentato in un paesaggio di abbondante raccolto come buon auspicio del benessere della coppia di sposi e questa immagine sostituisce lo stemma di famiglia della sposa collocato abitualmente in questa posizione la rarità di quest'opera sta proprio in quest'ultima immagine così audace per una tradizione iconoclasta come quella ebraica presente per di più in un documento che veniva letto durante una cerimonia ufficiale e che ci dà perciò l'idea della vivacità culturale della comunità ebraica romana alla fine del settecento grazie a tutti grazie a tutti